buongiorno a tutti oggi mi trovo a carabbia e vi sto per mostrare questo tre e mezzo locali mi trovo al primo piano di una palazzina con pochissime unità precisamente tre appartamenti allora la superficie interna dell'appartamento è di 85 metri quadrati e adesso andiamo a scoprirlo nel dettaglio allora sulla sinistra si apre un grande e ampio soggiorno l'appartamento viene affittato completamente arredato nel soggiorno abbiamo questo carinissimo e particolare camino e questa è la vista appunto dal soggiorno a carabbia quindi zona tranquillissima con una vista appunto sulla sui monti e sul verde dal soggiorno abbiamo un'uscita sul balcone balcone di circa otto metri quadrati e questa appunto è la vista nelle vicinanze vi è appunto la posta scuole primarie e la possibilità appunto di accedere di arrivare in centro a lugano in pochi minuti adesso andiamo a visionare la cucina cucina ovviamente composta da frigorifero con sotto congelatore lavastoviglie e piano cottura in vetro ceramica e sotto abbiamo il forno ad aria calda ventilata cucina comunque abitabile dove è già stato installato un comodo tavolo dove si può pranzare e cenare all'ingresso abbiamo un comodo armadio a muro proseguendo sulla sinistra abbiamo la prima camera singola successivamente troviamo la camera matrimoniale molto ampia di circa 18 metri quadrati e anche qui come potete ben vedere è stata appunto attrezzata con questi mobili e il letto che appunto rimane all'interno dell'appartamento e questa è la vista appunto dalla camera a disposizione della dell'appartamento vi è un box e la possibilità di parcheggiare un'altra auto di fronte quindi totale due parcheggi il primo bagno purtroppo non c'è elettricità ma la doccia è molto bella molto particolare con appunto mosaico a mosaico lavavo con sotto cassettone la doccia anche la possibilità di farla anche del massaggio e dietro la porta vi è il il bici in ultimo abbiamo il bagno padronale composto da bide dc lavavo e da questa parte abbiamo la vasca che eventualmente può essere utilizzata anche come doccia allora nell'appartamento sono ammessi animali ed è disponibile una comoda cantina appunto dove riporre i propri oggetti se volete visionare questo tre mezzo locali a carabbia contattateci ti affitto